La sfida per la politica sanitaria della Regione Marche è quella di dotare l'azienda dei servizi che i pesaresi negli ultimi anni hanno domandato in parte anche in Emilia Romagna. Quindi gli interventi che noi abbiamo fatto tendono a potenziare soprattutto i servizi territoriali. L'accentramento dell'unico ospedale a Pesaro aveva creato uno sbilanciamento. Noi stiamo rilanciando anche approfittando dei fondi PNRR gli ospedali di comunità, quindi ci troviamo in presenza di un'offerta piuttosto ampia che è stata oggettivamente potenziata, che parte da Sosso Gorvaro, Macerata Feltria, Fossombrone, Cagli, Pergola e poi tre hub di primo livello che sono Urbino, Pesaro e Fano. Però vorrei ricordare che Pesaro ha un ospedale che seppur è inquadrato negli ospedali di primo livello ha delle specializzazioni di secondo livello. Per noi la sfida è quella con l'atto aziendale che l'azienda dovrà adottare entro le prossime settimane, il prossimo mese, è quella di restituire i servizi ai cittadini di una delle più importanti province della nostra Regione. È una sfida politica ma è una sfida riorganizzativa del sistema sanitario regionale. Vorrei aggiungere che nonostante tutte le lacune e i deficit della nostra Regione, anche per quest'anno le Marche sono tra le prime cinque Regioni in Italia. Questo non significa che siamo soddisfatti. Anche stamattina ho chiamato il CUP per sapere quali sono le prestazioni assente. Assenti, ce ne sono molte di queste prestazioni, ma la riorganizzazione coglierà sicuramente il frutto. Nella mia esperienza politica so che quando si semina si raccoglie e noi stiamo seminando per dare servizi. I risultati che abbiamo visto in questi mesi sono molto soddisfacenti, soprattutto perché siamo riusciti a mettere insieme due realtà completamente diverse. Una esclusivamente ospedaliera, una territoriale e contaminare le due realtà l'uno del bene e dell'altro. Gli investimenti sono fondamentali e li stiamo utilizzando, i fondi messi a disposizione dalla Regione e dal PNR, in secondo la tempistica prevista, perché avere delle strutture moderne, delle tecnologie nuove attira anche i medici e i professionisti perché trovano in queste strutture un qualcosa in più rispetto a quelle dove stanno lavorando. Sono tecnologie di alta qualificazione, tipo l'acceleratore lineare nuovo per aumentare i trattamenti radioterapici e ridurre le liste d'attesa per i pazienti oncologici, ma anche tecnologie di tipo diagnostico come risonanze magnetiche, angiografi e TAC. Pesco è stato un 2023 importante anche in ottica del nuovo ospedale? Sicuramente la realizzazione del nuovo ospedale oggi è un dato certo, c'è una progettazione che è in corso e ci si augura a tutti che quanto prima si arriverà ad avere un cantiere, ma soprattutto anche gli interventi che verranno realizzati a Fano e in tantissime altre realtà della provincia di Piazzolobino restituiranno non solo dal punto di vista materiale ma anche dal punto di vista tecnologico sicuramente un'azienda più forte, più competitiva e io sono convinto anche più attrattiva, anche perché tutti noi sappiamo che la sfida della sanità nella provincia di Piazzolobino è particolarmente sentita perché è oggettivamente importante frenare quella mobilità passiva che penalizza il sistema sanitario pesarese ma anche tutto il sistema sanitario regionale e fare di quell'azienda un punto di riferimento che drini appunto la mobilità passiva e si può trenare la mobilità passiva solo riuscendo a conferire tutte le prestazioni che i cittadini nostri marchigiani ci chiedono e farlo anche con una capacità di soddisfazione importante.